ecco questo è l'oasi dove ha trovato casa marco ci si arriva attraversando un lurido villaggetto pieno di imbondizia per le strade e di forne all'aperto questa è la club house adesso andiamo a vederla all'interno il ping pong la palestra e altre facilities alcuni dei giardini che stanno allestendo la residenza dell'amministratore hanno mandato via da pochi giorni il precedente perché era troppo disponibile per i residenti entriamo questo qui è uno della security stanno costruendo un'altra delle varie case i lotti sono già stati tutti quanti venduti questa è la famosa tata nano che ha comprato marco e che è l'unico modo per riuscire a essere un po indipendenti in questa megalopoli di 8 milioni di abitanti questo è il giardinetto che ha realizzato subito franca appena arrivata comprando piante ecco la porta d'ingresso la situation room per i collaboratori di marco e questo è il mega ups uninterruptible power supply che abbiamo installato appena installato costa 1700 dollari più l'installazione e che consente di non avere interruzioni di corrente elettrica che purtroppo qui si verificano molto spesso ogni giorno questa è la paura paura da room lo schizzetto che serve per pulirsi le docce come sono fatte da queste parti che sono open air e adesso saliamo al piano superiore il televisore calcio balilla un ampio divano letto una camera matrimoniale la terrazza andiamo nello studio con due scrivanie e qui si sale ancora la papandi cinese che è una cosa veramente incredibile altro bagno dello studio grande piscina in allestimento grande piscina in allestimento